C'è un'altra giornata a un mare! Che giornata a un mare magnificamente perfetta! Che cosa c'è di così bello dell'autunno? Come vorrei dire? L'autunno è meravigliosa come questo giorno favoloso! Senti questa foglia fresca non ti metto di buon umore. Non ti metto, per il tanto che forse ancora è stato viaggiare soppie i raggi del sole. Purtami tu resti felici alla spiaggia? Ma non rivedremo più l'estate per un anno intero! E io sono proprio d'accordo con te, caro! L'estate qui a Sodo è una stagione veramente magnifica! Ma sappi che ci sono tantissime cose magnifiche anche nel suo sennesso della stagione? Sì! Come visitare un campo di zoo che tiene il profumo del sidro cardolineo nell'aria! E soprattutto il festival dell'autunna foresta lindosa! Wow! Guardate queste decorazioni! La stagione sarà davvero bellissima! Non vedo l'ora che inizi il festival dell'autunno! Ma io te lo guardano a drenare il vagone del fienno, non è fantastico, Thomas! Forza, Thomas! Dobbiamo provare le decorazioni a vertical! Perché non viene insieme a noi? Decorazioni autunnali e vagone del fienno? Non lo so! Il piano sembrà così! Salute! Buon castiglio dell'autunno a tutti! Tutti i fienni sono stati in una stagione zucca! E la mia vita è una! Non vedo l'ora che inizia la stagione coppa completamente di zucche! E io ti amo, amico! Sono molto divertente! Valle di pieno pronti a partire! E io prendo il sidro di mele! E abbiamo tenuto da parte la zucca più grande per sé! E io ti amo, Thomas! Prossima fermata! Stazione zucca! E io ti amo! E io ti amo! E io ti amo! Mi voglio fare il sorriso! Direi che qui c'è un po' troppo vento! Oh no! Non riusciamo neanche a vedere i binari con tutte queste palle! Proviamo a sbattare le palle con le palle! E così riusciremo a pulire il finale! Ottima idea! Allora fogliamo i vagoni sui binari laterali! L'avete capita? Perché qui ci sono tantissime palle! Aspettate! Come andiamo a formare dei rocchi di foglie? In questo modo? In questo modo! Diesel! Guardate lì! Tutte le foglie rosse e dorate stanno cadendo dall'alto! Sembra proprio una magia! Sapete cosa c'è di me dove guardarle? Sbricciare attraverso di vero! In effetti sembra divertente! E ora ti stai aspettando! Brava anche tu! Faccialo come dire che cosa stiamo aspettando! Tuffo bomba! Possiamo far volare le foglie ancora più in alto! Oh! Non vabbiamo! . forse far volare le foglie ancora più in alto! Dove se stoffe! Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.